l'argete l'argete e no va 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 io vorrei sapere perché quello ragazzetto lì sta girando boh portodino mandi sul campo eh lo so è un bappo eh che cazzo fa Michele stasera? no è un campo particolare è un bappo eh è un portiere però insomma deve starci più con la testa si tirano eh non è che scherza gli esseri di camerino dai dai la ah madonna io scivola le scarpe come prendi i bambi due scarpe per te è ragione i nostri già abbiamo sinne non ti ho scambi in mano non ti ho scambi in mano ora quando andranno i sti cambi qui ci hanno avuto i tuoi scarpe questi qui non arrivano non arrivano sulla porta avversaria c'è che cosa ha sbagliato nell'impostazione non arrivano mai ora non è possibile non è non è possibile no mezzo campo bello sembrava bello gol la roba da matti comunque non arrivano non arrivano su è passato ciao oh però fa sembra la figura a tu c'è guarda, guarda, no ma... che cazzo è che signora che delusione ha detto vado a prendere l'ombrello non... non... c'è un muro a mezza c'è qualcosa che non vado vai lunga, parti, parti vedi loro come sono separati vedi che uno sta avanti cioè tutto quanto il campo da loro occupati, noi apri soltanto un pezzetto di campo vieni a coprirmi vieni dai insieme ci coprimmo un pochetto ecco vedi, vedi che sta andando su e noi gli ha passato la palla grazie mamma mia ma che è un altro uomo? vai cioè l'ombrare ma non li era abituati non li capitano io perché potevo solo questo ne da tranquillo meglio devi cambiare la formazione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.